Nel corso di questo video vi farò vedere un accessorio strepitoso che cambierà per sempre faccia alle vostre fotografie di prodotto. Per questo motivo prima di cominciare vi chiedo di ricambiare mettendo un bel like a questo video e iscrivendovi subito al canale in maniera tale da dare il supporto necessario a dimostrare all'algoritmo che questi contenuti possono interessare a un ampio pubblico di appassionati di fotografia. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare e mi occupo di fotografia da tanti anni e oggi voglio proporvi un gioco. Adesso fermiamoci un attimo e voi mi dovete dire chi è questo. Stoppate il video avete tre secondi per scrivermi in un commento chi è questo signore, avete esattamente tre maledettissimi secondi neanche un decimo in più. Benissimo per quelli di voi che non hanno indovinato il signore in questione è Carl Taylor, uno secondo me dei più bravi divulgatori e professionisti della fotografia professionale a livello globale. È uno dei, non dico dei miei maestri perché non è vero, non ho mai fatto niente con lui però ho imparato tanto dai suoi corsi online che vi consiglio di andare a scoprire perché questo non è come me, questo è uno bravo davvero, questo è un professore di quelli seri che fa fotografia da non so da quanti anni perché non so quanti anni abbia però è veramente uno di quelli bravi. Oggi andiamo a parlare di questo e voi direte che cacchio è sto coso. Questo, mi allontano un attimo per farvelo vedere meglio, questo qui è il light cone, il cono di luce ed è un accessorio di Carl Taylor Photography che io ho trovato in vendita su Amazon eccezionalmente perché fino a un po' di tempo fa era in vendita solo su vflat.com e su B&H, quindi siti non italiani, siti statunitensi se ricordo bene e aveva dei costi di dogana imbarazzanti. Ora è arrivato anche su Amazon e quindi finalmente mi sono deciso ad acquistarne uno perché l'ho sempre voluto, da quando Carl Taylor ha annunciato questo prodotto io l'ho visto, ho visto cosa era in grado di fare e l'ho subito desiderato fortemente perché ti cambia un po' la vita. Ti cambia la vita quando stai fotografando still life, oggetti non particolarmente grandi, chiaramente perché devono stare qui dentro, quindi questo è un cono che va bene se stiamo facendo qualcosa delle dimensioni di una tazza da caffè, delle dimensioni di un'arancia. Se andiamo su cose più voluminose, ci sono le versioni più grandi, esistono dei light cone più grandi oppure esiste il pacchetto che ne contiene tre di dimensioni diverse. Io ne ho preso uno solo perché ce n'era disponibile uno solo, quindi ho preso quello che c'era. Però ci sono anche diverse misure con cui possiamo arrivare a fare cose più grandi. Ovviamente una persona non ci starà mai dentro un accessorio di questo tipo e un'anguria non ci starà mai, un laptop difficilmente ci starà, quindi serve per fare cose più piccole. Però serve in particolare per fotografare oggetti semi riflettenti o riflettenti, è lì che ti cambia veramente la fotografia. Quindi se stiamo fotografando un orologio con la cassa lucidata o se stiamo fotografando un rubinetto o se stiamo fotografando delle posate o se stiamo fotografando un bicchiere di dimensioni non troppo grandi, ecco che questo può fare veramente la differenza. Nel corso di questo video andrò a farvi vedere alcune fotografie realizzate con questo accessorio. Attenzione, questo accessorio viene venduto singolarmente e quello che fa sostanzialmente è che va a diffondere la luce. Vedete? Voi immaginatevi di essere qui dentro e vedete che la luce viene diffusa in tutte le direzioni. Noi qui abbiamo una sola sorgente luminosa che sta colpendo il nostro cono, la diffonde in maniera molto gradevole e il fatto che le superfici siano bianche e vadano a coprire per intero il nostro soggetto ha l'effetto di eliminare i riflessi della stanza, i riflessi di noi che siamo lì, i riflessi degli stativi di tutte le varie cose che stiamo utilizzando, in pratica ci va a schermare il nostro soggetto riflettente da tutta quella che è la stanza e così riusciamo, passando dal foro più piccolo in cima, a far passare il nostro obiettivo e quindi sì, su un oggetto altamente riflettente è possibile che avremo il punto nero del nostro obiettivo in un dato punto del nostro soggetto, però lì avremo da fare un piccolo ritocco in Photoshop ma sarà molto molto piccino rispetto ad avere tutta la stanza da ritoccare. Inoltre vi devo anche dire che ho fatto delle prove e personalmente posizionandomi sono riuscito a non avere nessun tipo di riflesso perché a quel punto basta muoversi di poco e il puntino nero dell'obiettivo lo posizioniamo in un punto dove non dia fastidio e riusciamo la maggior parte delle volte a non vederlo proprio. Prezzo dell'accessorio? Vi posso dire il prezzo è veramente alto perché io credo di aver pagato più di 100 euro per questo accessorio che sostanzialmente è un foglio di plastica semitrasparente con tre bottoni che lo tengono fissato, quindi il prezzo è veramente un po' esorbitante. Vi dico perché ho voluto sostenere questa spesa nonostante questo prezzo. Due motivi sostanzialmente. Il primo è un accessorio di Cartailor di cui io ho fiducia, Cartailor si è guadagnato la mia fiducia insegnando tante cose sia nei suoi corsi a pagamento sia su youtube in maniera del tutto gratuita e quindi quando Cartailor promuove un prodotto, addirittura produce se ho capito bene un prodotto, dentro di me scatta una lampadina e mi dico se l'ha fatto Cartailor vuol dire che la qualità ci deve essere da qualche parte e infatti così è perché questo accessorio è fatto di un materiale che è studiato apposta per riflettere la luce in maniera uniforme in un determinato modo e secondo me funziona molto molto bene. Costa veramente tanto però è leggero, resistente, lavabile e questa è la cosa, una delle cose secondo me più importanti. Si può lavare con la spugnetta inumidita e qualunque cosa sia successo torna pulito come prima. Questo è molto importante, non è assolutamente monouso, questo potenzialmente è un accessorio eterno, ci metterà 50.000 anni a distruggersi quindi è assolutamente eterno, durerà sicuramente più del sottoscritto. Ovviamente molti di voi si staranno domandando ma perché io devo pagare 100 e passa euro per un qualcosa che tutto sommato mi posso fare da solo? Se avete la conoscenza tecnica e i materiali per produrvi da soli un cono di questo tipo e non ci vuole tanto, è sufficiente avere della plastica traslucida e la macchina per mettere i bottoni a pin, quindi è una cosa che se sapete già fare, se avete già accesso alla strumentazione vi fate in un attimo e io vi invito a farvela da soli infatti se avete accesso a questa strumentazione. Però molti di noi non hanno accesso a niente di tutto ciò e quindi per me per esempio era conveniente spendere sti soldi e comprarmelo piuttosto che mettermi a cercare qualcuno che me lo facesse custom made perché a quel punto avrei dovuto impiegare ore della mia settimana per cercarmi qualcuno, per andare a commissionarglielo, supervisionare i lavori e poi tornarmene a casa con qualcosa che magari aveva i bottoni che si sfaldavano subito e quindi per me diventava controproducente. Io ho preferito sganciargli grano e avere un prodotto garantito che funziona subito. Vero è che noi questa cosa possiamo farcela anche di carta. Questa anche è una cosa che io vi invito a fare, io ho provato a farmelo di carta con dei risultati abbastanza pietosi, nel senso che non sono mai stato fan del bricolage, anzi lo detesto, mettiamola così, io detesto il bricolage. La carta velina che dobbiamo utilizzare per realizzare una cosa di questo tipo deve essere una carta traslucida comunque perché altrimenti se usiamo la carta normale il foglio A4 standard la luce non passa, quindi deve essere una carta traslucida. Però lì abbiamo una serie di problemi, almeno io ho avuto una serie di problemi. Primo fra tutti la carta velina traslucida che ho a disposizione io nei negozi qui della mia zona ha una dominante cromatica. Io non la voglio una dominante cromatica, poi devo andare a rimuoverla, faccio una fatica in più ed ecco perché preferisco spendere dei soldi, perché poi adesso io per il resto della mia vita non devo più rimuovere dominanti cromatiche, questo è un colore neutro. Mentre con la carta velina non è mai perfettamente neutra, ne ho provate diverse e non è neutra. Un altro problema è che la carta non tiene la forma, la carta velina è così morbida che si affloscia, quindi diventa molto difficile tenerla su in quella posizione, bisogna scocciarla tutta e le righe dello scotch si vedono. Poi bisogna mettere il filo da pesca per tenerla su e l'ombra del filo si vede. Poi bisogna puntellarla con degli stativi perché sennò ti collassa sul prodotto. Insomma diventa difficile e io quando spendo 100 euro mi aspetto che questo mi risolva dei problemi e infatti tutti questi problemi me li risolve ed è questo il motivo per cui ci sono degli scemi come me che spendono dei soldi e se lo comprano, perché così ho speso un po' di soldi anche un po' seccante il prezzo di questa cosa, però mi va a risolvere tutti dei problemi per cui poi nel corso degli anni sarò grato di averlo preso, spero, me lo auguro, ve lo farò sapere poi in qualche post successivo. Ovviamente se siete più bravi e più tenaci di me riuscite a ottenere lo stesso risultato facendovelo di carta, avrete risparmiato un sacco di soldi e avrete la soddisfazione di esservelo fatto con le vostre mani e quindi non dico assolutamente di non provarci. Vi dico solo che io mi sono trovato male a lavorare con la carta, mentre mi sto trovando piuttosto bene a lavorare con questo, perché mi dà effettivamente quello che sto cercando, mi rende la fotografia più pulita, mi toglie i riflessi e mi rende anche la luce più bella. Ora, vedete lì dietro, io sto lavorando lì sul tavolo per fare questo still life, mentre i colleghi non ci sono, quindi lavoro a ufficio chiuso per fare queste cose. Lì dietro ho messo le mie lucette, che sono delle lucette Godox, di cui pure vi lascio tutti i link di riferimento in descrizione da qualche parte o in un commento, insomma li troverete. Sto utilizzando quelle lucette perché questo è un accessorio che, come dicevo all'inizio del video, viene venduto da solo. Noi possiamo anche usarlo da solo, perché se noi abbiamo una giornata di sole e lavoriamo alla luce del sole, anche in esterna potrebbe essere un'ipotesi, se noi lavoriamo in esterna e mettiamo questo cono sopra il nostro soggetto, abbiamo la luce del sole che è così potente da diffondersi molto bene su tutta quanta la superficie che stiamo fotografando e quindi noi possiamo veramente solo con questo realizzare delle buone foto. Però, se come capita a me, lavoriamo in orari in cui la luce del sole non è più così forte o addirittura è assente, possiamo andare a utilizzare delle luci. In particolare tutte le foto che vi ho fatto vedere oggi sono state realizzate con quattro luci led di Godox che sono state posizionate sui quattro lati in modo da avere un'illuminazione uniforme su tutti quanti i lati. Fatemi sapere in un commento se vi interessano ulteriori esperimenti con questo cono di luce perché potrei andare a farvi vedere tutte le varie fasi, quindi cosa succede con una luce sola, con due, con tre, infine con tutte e quattro e potrei andare a farvi vedere come rende alla luce del sole. Ci tenevo a farvelo vedere perché mi sono emozionato quando ho visto che finalmente potevo averne uno, però non l'ho ancora sperimentato nella sua interezza. Quindi fatemi sapere se vi interessa perché faccio un video di continuazione su questo tema solamente se qualcuno mi dice che può effettivamente interessare, altrimenti segnalatemi altri argomenti e procederemo cercando di sfruttare tematiche che stanno a cuore un po' a tutti. Per questo motivo, siccome seguo i vostri consigli e leggo i vostri commenti, vi invito a iscrivervi al canale in maniera tale da rimanere sempre aggiornati. I commenti con delle domande troveranno sempre una risposta e quando sono bravo vi do anche una risposta tempestiva con degli shorts verticali. Per tutti quelli che sono in attesa abbiate pazienza, purtroppo sono molto indietro ma state diventando un po' tanti da gestire. Signori, io ringrazio tutti quanti per aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento come sempre al prossimo video.